Dopo due mesi e mezzo il barbiera, purtroppo fra di noi cittadini ci siamo abituati. Aspettiamo il turno, piano piano oggi il governo ci ha dato il via libera e dobbiamo essere anche noi a mantenerci un po' di distanza. Il presidente Musumeci dopo una lunga trattativa con il governo nazionale ha fermato l'ordinanza per l'avvio della fase 2 con ulteriori restrizioni. Ad eccezione dei minori sotto i 6 anni tutti dovranno indossare la mascherina sia all'aperto sia nei luoghi al chiuso. Rimane l'obbligo di quarantena per chi arriva da fuori regione, lidi e stabilimenti balneari resteranno chiusi mentre le palestre e piscine potranno riaprire dal 25 maggio. Sono queste alcune delle novità sostanziali che ci differenziano dalle altre regioni italiane. Come detto sarà obbligatorio sia all'aperto che al chiuso l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. La protezione dovrà essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo mentre non saranno soggetti all'obbligo di mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni i soggetti con forme di disabilità. La mascherina non sarà obbligatoria dunque durante l'attività fisica, basterà il distanziamento di metri due per poi indossarla alla fine dell'attività. Nessuna limitazione per gli spostamenti all'interno del territorio regionale mentre rimane esclusa la mobilità fuori regione salvo comprovate esigenze. Abbiamo fatto sanificazione tutto e siamo organizzati alla migliore, speriamo che tutto vada bene, i clienti aspetteranno fuori come abbiamo tutto sanificato, tutto disinfettato e così via. Ecco come ha vissuto questi due mesi di isolamento? Oggi c'è una ripresa, dobbiamo continuare sempre a stare attento, non sottovalutare questo virus. Chi dovrà arrivare in Sicilia avrà l'obbligo di registrarsi sul sito della regione, attestare la presenza al proprio medico, all'ASP, al comune di residenza o domicilio. Dovrà rimanere in isolamento obbligatorio da congiunti ad eccezione di badanti e personale sanitario. Da questa mattina potranno regolarmente svolgere la loro attività, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie ed altro. Dovrà essere garantita la distanza di un metro, il titolare avrà l'obbligo di controllare gli ingressi e potrà anche misurare la febbre. Dovrà tenere per due settimane il registro dei clienti. Stessa cosa per barbieri, parrucchieri ed estetisti, con obbligo di visiere e mascherina, mentre i clienti dovranno indossare la mascherina, la distanza obbligatoria e la prenotazione. Siamo pronti per ricominciare. Scalino dopo scalino la vita deve ricominciare perché non potevamo stare ancora fermi. Grazie ai nostri clienti che oggi hanno cominciato di nuovo a venirci a trovare, sembra che la situazione è molto positiva. Autorizzate inoltre le attività di commercio al dettaglio, inclusi i centri commerciali, agenzie di viaggio e le attività artigianali. Autorizzate anche mercate e feri di ogni genere, affidando al sindaco l'aduzione di precauzioni del caso con orari ed accessi. Varranno le stesse regole per i negozi, i centri commerciali, cioè mascherine, guanti e distanziamento. E' disposta in questa fase la chiusura nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione di Fiorai, mentre saranno autorizzati a svolgere il servizio a domicilio, chiusi la domenica ed i festivi i centri commerciali e gli outlet. Ultima riapertura riguarda tutte le attività turistiche, alberghiere ed extraalberghiere, bed and breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanze e similari, rispettando sempre tutte le indicazioni stabilite per le attività economiche di produzione. Ma mi fa pure impressione per dirsi la verità, sto cercando un cartoccio con ricotta, desiderio nascosto dopo due mesi di solitudine e isolamento.